Buongiorno ragazzi, adesso che le qualità sono tutte e magari sei nel periodo di massa hai paura di buttare via tutti i limitati per te, non sai come allenarti senza gli tre minuti senza la parenza. Bene, oggi voglio farti vedere un piccolo regolamento che puoi fare a casa tua per andare a fare un forte lavoro di panco a livello di petto, spalle e principi. Faremo tre esercizi, lavoreremo a teto e andremo a mettere veramente sotto pressione i nostri pettorali, principi e spalle. Prima cosa che ti consiglio di scaricare la applicazione di Tabata, dopodichè se vuoi capire al meglio come utilizzarla e come ripostarla vai sul mio canale di YouTube, Max Marchi, c'è un video dedicato proprio a come impostare l'applicazione. Andremo a impostare la nostra applicazione Tabata facendo 30 secondi di lavoro, quindi andremo a fare 20 secondi di lavoro e 40, 20 secondi di recupero, quindi tempo di lavoro uguale al tempo di reticolo. Faremo tre esercizi, li dobbiamo fare per 4 giorni, quindi 12, 7. Una volta impostata la nostra applicazione, ci teniamo a terra e partiamo con il nostro workout. Tre esercizi, come dicevo, partiamo con il primo esercizio e faremo dei push-up, quindi semplici push-up, quello che ti chiedevo a tenere i momenti vicini ai piani. Andiamo via alla nostra applicazione, ci teniamo a terra e ci vado ragazzi pronti a far bruciare le spalle contro i cittadini, solamente utilizzando il tuo corpo. iniziamo, 20 secondi di push-up, poco e salti, poco e salti, scegli. Il secondo esercizio che andremo a fare è il comando, quindi tenere il plank e in questa posizione di tutto inseriremo il primo con brà e il tuo colore. Iniziamo il plank, salto sul sinistro, scendo, salto destro. Addome sempre un bel contratto e dopo. Qui, e c'è. Scippo sinistro, scendo, col destro. E stop, 20 secondi di recupero, chiudiamo il set, con il terzo esercizio faremo da French Press a terra. E funzioniamo sempre in planta, quindi di nuovo in semplante, adottima tratta, allungo e ritorni. Cerca di avere le spalle sopra i gol, lungo e ritorni, la zona di contratto, allungo e scendiamo. Primo giro terminato, pronti e partiamo con il secondo rato, le braccia entrate già a tre mani, male causate, e latendo non la facoltà, vediamo il pulsione, 3, 2, 1, e la via. Non ci strette, sopra e ritorni. Vomli sempre in bel contratto, non ci metti anche, quindi ci bilancio avanti, c'è il cappettino quindi le mani sono del cappettino e il bilancio di tormento oltre il cappettino questo è ottimo vediamo il tuo citti ora bisogna sentirci pronti col comando secondo l'esercizio il comando si riferiamo di nuovo in plan addonzo al contratto e andiamo il sinistro scendo e poi dietro giù desci giù giù desci però non sempre dal contratto mettiamo lì e stop ottimo pronti passiamo al terzo del vizio per il tess stai con me stai con me adesso 3 2 1 allungo tocco di nuovo tocco e allungo tocco e su tocco e su su può andare andiamo i principi stai con me adesso su 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 finazza ottimo piegiamo un attimo le braccia e partiamo nel terzo lato 9 push up non più stretti non più contratto adesso iniziati a stringere su su e giù temolo e spino non più stretti su 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 tieni gli addominali vietato fermarsi adesso eh tieni duro adesso iniziare a bruciare stai lì stai lì stai lì tieni duro sempre di fare tutte le posizioni che riesci nei 20 secondi di lavoro quello ti darà grossi elettrici pronti con il plan comando su scendo e destra scendo sinistro scendo e destra scendo sinistro e andiamo così così su su sinistro metto il testo scendo ottimo uh ci siamo ragazzi come va le braccia? iniziano a sentirsi pronti con il friend stance eh forza siamo a fine del terzo giro dopo è già rimasto su l'ultimo giro ormai la parte dura è stata fatta pronto plan 3 2 1 e 1 e 2 e 3 3 4 5 6 7 8 9 e 3 è ottimo diamo più nel terzo giro diamo col quarto eh quattro anni principi di petto spalle iniziali a sentirsi eh stiamo andando alla grande tieni duro nell'ultimo giro adesso diamo il punto eh dobbiamo aumentare un buon ritmo e portiamo i muscoli alle strelle stiamo andando 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 e andiamo facciamolo bruciare eh diamo il tutto commando uh metti la sopra l'edita preferita carica che bomba la musica ti aiuterà a dare il massimo pronti col commando 3 2 1 su 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 oh yes stai con me eh stai con me anche l'ultimo press press uh spettacolo da in fila l'arriamento ti fa stare bene ti muovi aiuta il tuo corpo diamo un po' più success 1 2 cuori tutto adesso 3 4 5 6 7 8 9 10 10 andiamo 1 2 wow bravo good job ottimo lavoro sicuramente sentirai i cinti pet e spalle che hanno lavorato facciamo un attimo di stretching per lavorare in petrolano però non stiamo in maniera migliorati del carbone ci posizioniamo mani e un gol più per dietro gommi complessi ed aprile per scivolare felice andiamo a mantenere posizione per 45 ma da un dovreste sentire aggondare spalla anteriore pettorale a fammi sapere nei commenti come un altro workout se ti avvicino e sei sentito bruciare spalle i pezzi e se sei riuscito a completarlo tanto con me ok quando ci dobbiamo fermare che è molto importante tornare indietro con il bacino e il bocino di testa e le mani facciamo due esercizi ci siediamo il pallone mano sinistra tutto il giro sinistra e gli diamo fu 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 Ottimo workout terminato, come hai visto, anche senza tre, comodamente a casa tua, puoi dare stimoli allenanti al tuo corpo per creare un palco muscolare e continuare il tuo percorso verso la massa o verso la repiezione. Spero per dirvi che ti sia piaciuto, fammi sapere nei commenti le tue situazioni, se è stato un po' graffimento di questo video, inizia a seguirmi sul canale YouTube MaxMarty, su Instagram MaxMarty.tv e su Facebook MaxMarty.tv per essere sempre aggiornato e seguire tutti gli allenamenti che può sostanzialmente. Ciao ragazzi, è stato un vero piacere andare con voi e sei con me.